hello ben ritrovati o benvenuti sul mio canale amici questa settimana tra una mimosa e una serata trash in discoteca si è celebrata la figura della donna ogni anno l'otto marzo si festeggia la festa della donna in qualità di componente necessaria analogamente all'uomo dell'universo ebbene amici lungi da me farvi scuola su quali siano i veri significati di questa festa perché immagino che ormai li conoscete a memoria anche se devo dire che l'otto marzo le pizzerie e le discoteche sono ancora piene di ormoni impazziti manco avessero spruzzato testosterone nell'aria a mo' di disinfestazione per i topi no io sfrutterò questa occasione per parlarvi d'altro ma prima mi preme ricordarvi che qui sotto c'è un pulsantino rosso cliccateci su e attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati sui miei video futuri in più seguitemi su facebook e instagram dove oltre ai post troverete dei sondaggini che vi permetteranno di aiutarmi a scegliere gli argomenti di cui parlare nei prossimi video perciò non perdete tempo e cliccate su tutti i tastini segui su grazie ebbene amici le donne nonostante i grandi risultati che comunque hanno raggiunto nella lotta per la parità dei sessi rimangono ancora molto discriminate in determinate categorie professionali nel campo dell'architettura nonostante rappresentino una percentuale numerica altissima sono ancora considerate ahimè un gradino sotto gli uomini insomma il mestiere dell'architetto è ancora un mestiere da uomo basti pensare alla parola stessa architetto che non prevede la desinenza femminile e sì lo so che l'accademia della crusca ha accettato la parola architetta ma preferisco dimenticarlo perché a me sinceramente sembra proprio una grossa grassa presa per il tutto ciò trova ahimè fondamento nella storia fateci caso ma nei libri di architetti donne non se ne trovano quasi per niente e se vogliamo cercare in una dimensione più pop in film serie tv e narrazioni di ogni tipo la presenza di protagoniste femminili impegnate nel campo dell'edilizia è ancora più scarsa eppure dovete sapere che anche se nessuno ne parla ci sono state delle donne nel mondo dell'architettura che in un modo o nell'altro hanno rivoluzionato l'architettura stessa in questo video ve ne citerò dieci quelle che io personalmente ritengo dobbiate assolutamente conoscere e badate che non è una classifica perché nessuna di queste è più importante dell'altra ma lo sono tutte chi per un motivo chi per un altro pertanto ve ne parlerò seguendo l'ordine cronologico di nascita tra l'altro vi scriverò anno di nascita e di eventuale morte proprio per aiutarvi a inquadrare queste figure all'interno del proprio periodo storico ma iniziamo Marion Mahoney Griffin architetto dell'illinois al volgere del ventesimo secolo Marion Mahoney Griffin lavorò al fianco di una nostra vecchia conoscenza ovvero il grande Frank Lloyd Wright la Mahoney che prese il secondo cognome dal marito Walter Griffin fu il primo esempio di donna dall'immenso valore il cui lavoro però non fu apprezzato come avrebbe dovuto l'architetto infatti aveva una mano nel disegno a dir poco portentosa e infatti nello studio di Wright era proprio lei a disegnare quasi tutte le rappresentazioni grafiche dei progetti per mezzo di acquerelli e di elaborati disegni a china prodotti grafici il cui merito venne attribuito sempre e solo a Frank Lloyd Wright il quale non si prese mai la briga di svelare di chi fosse la mano dietro quegli splendidi disegni e che anzi cavalcò l'onda sfruttando quel bel Westmoot portfolio che la Mahoney personalmente gli disegnò per accaparrarsi alcuni dei suoi più grossi lavori tra Europa e America portfolio che divenne addirittura d'esempio più tardi per architetti quali Le Corbusier, Walter Cropius e Miss van der Rohe fu solo quando la Mahoney si trasferì in Australia che poté finalmente lavorare in proprio come architetto insieme a suo marito e ad avere almeno una piccola parte del successo che le sarebbe aspettato sin dall'inizio lo stile che prevale in tutti i suoi progetti è evidentemente molto influenzato allo stile di Wright ma comunque sempre rielaborato in maniera molto personale purtroppo Marion Mahoney Griffin nonostante sia stata una pioniera dell'architettura al femminile ha sempre vissuto nell'ombra delle ingombranti figure maschili di cui si è circondata Frank Lloyd Wright prima e suo marito dopo il che non ha mai permesso al suo enorme talento di venire allo scoperto e di farla ricordare come un tassello fondamentale della storia dell'architettura Aileen Gray La giovane irlandese Aileen Gray era una redatrice e decoratrice che seguendo il movimento moderno e quello olandese del de style arredava le case della Parigi aristocratica sotto l'occhio attento e critico delle modaiole signore parigine degli anni venti il suo lavoro di designer di interni era decisamente apprezzato all'epoca non solo li accostava perfettamente ma disegnava anche elegantissimi elementi di arredo in stile moderno fatti di acciaio vetro e pelle le linee pulite ma dalle composizioni ricercate spinsero il suo compagno l'architetto jean badovici e il suo grande amico Le Corbusier a suggerire alla Gray di avvicinarsi all'architettura disciplina per la quale sembrava particolarmente tagliata e questa intuizione fu decisamente azzeccata Aileen Gray infatti firmò numerosi progetti di interior design e ben presto canalizzò tutto il suo estro in un'opera architettonica completa in ogni suo aspetto nacque così la casa è 1027 a Roquebrune Coop Marten vicino il principato di Monaco progetto condotto a quattro mani con il compagno Badovici che avrebbe poi dovuto abitarlo insieme a lei perfetto esempio di modernismo architettonico la casa fu oggetto di grande invidia da parte di Le Corbusier che per dispetto si costruì una dimora molto fin troppo vicina all'abitazione della Gray e come se non bastasse quando la Gray e Badovici si mollarono questo ultimo insieme al suo compagnuccio di merende Le Corbusier vandalizzò la casa pensata dalla sua fidanzata ricoprendola di murales che prendevano in giro la Gray e la sua dichiarata bisessualità questo gesto non solo fece in modo che la casa è 1027 fosse negli anni erroneamente attribuita ai due architetti maschi e non a Eileen Gray ma in più decretò la fine della carriera della nostra pioniere del modernismo che rimase ahimè vittima silenziosa di questo gesto per fortuna qualche anno prima della sua morte la rivista Domus pubblicò i suoi progetti per la poltrona bibendum e il tavolo E1027 regalando alla Gray un tardivo ma grosso successo e facendo soprattutto tornare i due mobili in produzione consacrandoli a pezzi classici del design molto in voga e molto quotati ancora oggi Lily Reich fu socia e amministratrice di Ludwig Miss van der Rohe grande esperta di moda tappezzeria e tessuti la Reich si dedicò per anni all'allestimento di mostre e grossi eventi fieristici cosa che le veniva molto bene dato il suo talento naturale e la sua appassionata attenzione per l'interior design talento grazie al quale fu notata da Miss van der Rohe che la volle dapprima al suo fianco come collaboratrice sul lavoro e in seguito quando poi divenne direttore del Bauhaus come insegnante in piatta stabile di interior design all'interno della scuola fino agli anni trenta anni in cui Miss van der Rohe si trasferì in America e la dimenticò totalmente da lì infatti nessuno badò più al lavoro della Reich finché 17 anni più tardi consumata da una grave malattia morì nell'oblio più totale tra le varie cose nessuno lo ricorda mai la Reich fu coideatrice al 50 per cento della celeberrima seduta Barcellona che ahimè è divenuta un'icona portando solo ed esclusivamente la firma di Ludwig Miss van der Rohe Margarete Schutteljotsky Margarete detta Grete Schutteljotsky è stata un architetto austriaco ci troviamo davanti alla prima vera figura femminista della storia dell'architettura Grete è infatti nata in una famiglia progressista a prescindere dalla sua carriera professionale che comunque è stata influenzata da questo suo ardore era un'attivista politica e una sostenitrice fervente dei diritti delle donne l'architetto lavorerà a diversi progetti ma quando era chiamata a ripensare alle tipologie edilizie in previsione di una migliore razionalizzazione degli spazi in base al lavoro domestico dal comune di Francoforte sul meno sarà proprio allora che farà storia e sì amici la nostra Grete Schutteljotsky con il suo progetto per la cucina Francoforte è l'inventrice indiscussa della cucina componibile sì la tipologia di cucina ad oggi presente in ogni singola casa del mondo quella fatta di pensili e di elementi singoli che è possibile accorpare completare con un top e con gli elettrodomestici ad incasso quella che avete a casa Grete ipotizzò questa cucina modulare per venire proprio incontro alle donne per rendere il loro lavoro di cuoche più semplice e per permettere loro di immagazzinare molti oggetti in modo pratico e intelligente affinché tutto fosse in ordine protetto dalla polvere ma allo stesso tempo raggiungibile in ogni momento e con poca fatica un progetto dir poco rivoluzionario che reinterpretava il concetto di utile in modo intelligente ed esteticamente gradevole visto che la modularità della cucina Francoforte rendeva gli elementi adattabili agli spazi e allo stile dell'abitazione in cui veniva installata Gaetana Aulenti detta Gaetana Aulenti architetto italiano scomparso nel 2012 si laurea al Politecnico di Milano negli anni 50 e dissociandosi dal razionalismo di scuola milanese che stava pian piano prendendo piede in quel periodo inizia la sua carriera di architetto spaziando dal neorealismo al neoliberty ampliando la sua sperimentazione dal disegno industriale all'arredamento fino all'urbanistica famosissima in tutto il mondo ha firmato diversi progetti divenuti ancora più celebri del suo nome stesso ricordiamo per esempio lo splendido restauro della Gare d'Orsay a Parigi e la sua trasformazione da stazione dei treni a museo d'arte moderna in stile neoliberty di cui oltre naturalmente le famosissime opere custodite al suo interno sicuramente ricorderete il grande orologio dorato situato al centro dell'atrio il motivo floreale della luminosissima volta a lunette e la magistrale distribuzione assetti del piano terra per quanto riguarda invece il lavoro dell'Aulenti urbanista citerei l'esemplare piazza Cadorna a Milano punto di snodo fondamentale del capoluogo lombardo riconoscibile oltre che dall'opera ago filo e nodo di Claes Oldenburg voluta proprio dall'architetto milanese dalla facciata della stazione e dalle emblematiche colonine rosse che l'Aulenti ha progettato ma piazza Cadorna è stata modificata dall'architetto anche dal punto di vista della viabilità urbana e pedonale creando uno spazio molto più fruibile e funzionale e Gai Aulenti come abbiamo detto è stata anche una grande designer e a questo proposito citerei il pulitissimo tavolino con le ruote per fontana arte è quello che forse è l'oggetto più celebre disegnato dall'Aulenti ovvero la lampada pipistrello per Martinelli luce Denise Scott Brown è moglie e socia di un altro architetto Robert Venturi assieme al quale ha firmato molti progetti tra cui il Seattle Art Museum o l'ala Sainsbury della National Gallery a Londra i due coniugi soci all'interno dello studio associato Venturi Scott Brown scriveranno insieme anche uno dei saggi teorici più importanti dell'urbanistica contemporanea ovvero imparare da Las Vegas che analizza la crescita di una città basata solamente sulle moderne regole di comunicazione e commercio un testo in cui si analizzano concetti base dell'urbanistica e che verranno studiate e sviluppati in tutte le scuole di architettura fino ai giorni nostri ebbene amici il sodalizio tra l'architetto Venturi e Denise Scott Brown sembra indissolubile i due formano una coppia vincente dal punto di vista sentimentale certo ma soprattutto da quello professionale ogni buona idea la sviluppano insieme ogni concetto lo sviscerano insieme e ad ogni successo ci arrivano insieme ogni successo tranne uno nel 1991 Robert Venturi riceve il premio Pritzker ma da solo questa decisione a parere di tutti ingiustificata dato che due hanno da sempre e sempre lavorato insieme è ancora una volta la triste conferma di quanto il mondo dell'architettura sia stato e probabilmente sia ancora seppur in maniera meno grave di allora un mondo totalmente maschilista. Zadid. Abbiamo avuto modo di parlare numerosissime volte di Zadid architetto iracheno che ha firmato un numero enorme di progetti che spaziano dal design industriale al fashion all'architettura naturalmente e all'urbanistica. c'è da dire che Zadid è sicuramente l'architetto donna più famoso al mondo e questo probabilmente perché è stata la prima a sperimentare e a rivoluzionare la disciplina. Zadid pensate un po' è stata la prima donna di sempre a vincere il Pritzker Prize ma è stata anche la pioniera indiscussa dell'architettura computazionale unendo ben due skills che fino a qualche anno prima erano principalmente prerogativa maschile ovvero l'architettura e la programmazione. Si può dire che sia la fautrice di un manifesto iniziatrice precoce di una corrente che solo negli ultimi anni si sta diffondendo sia tra i progettisti che tra gli studenti. La Adid ha firmato una quantità enorme di progetti in varia scala ma ve ne ricordo giusto alcuni quelli più famosi sicuramente il progetto per il museo Maxi a Roma che anche se come vi ho già detto per me presenta dei lati negativi di cui vi ho parlato appunto nell'episodio di supposte di architettura sulle archistar è comunque un progetto avveniristico e sensazionale dal punto di vista formale soprattutto in una città dalle origini antiche come Roma ma citerei anche il famosissimo Eidar Aliyev Center a Baku in Azerbaijan delineato da una superficie sinuosa che si piega su se stessa o ancora la Serpentine Sackler Gallery di Londra e infine vi voglio citare un progetto che non è poi tanto famoso ma che secondo me è davvero molto interessante per il suo concept iniziale e per lo sviluppo Lohenheim Nord Terminus & Car Park a Strasburgo si amici un parcheggio uno spazio così semplice ma sviluppato in modo unico e molto molto personale Odile Dek Odile Dek francese è la Robert Smith dell'architettura non a caso è una dei miei architetti preferiti di sempre il suo aspetto eccentrico vagamente got da front woman di una band new wave agli 80 si riflette perfettamente nel suo lavoro i progetti della Dek sono incredibili visioni oniriche forme organiche improbabili che sembrano uscite da un incubo di Tim Burton si compongono per dare vita a progetti architettonici e urbani che ribaltano i canoni classici dell'architettura per creare scenari futuristici e totalmente inediti la Dek è una vera e propria icona dell'architettura e infatti può vantare una serie innumerevole di premi come per esempio un leone d'oro la Biennale di Venezia l'International Prize for Architecture e in più le è stato anche dato il titolo di Commandeur dell'Ordre des Arts et des Lettres e Chevalier della Légion d'Honore scusatemi francese ma come al solito sapete che non lo so e basta guardare i suoi progetti per capire quanta sperimentazione e ricerca ci sia dietro il suo lavoro sua è la firma sul progetto del ristorante dell'Opera Garnier di Parigi il Phantom dagli interni magistralmente tagliati da questa sinuosa forma organica rossa o ancora la banca popolare dell'Ouest di Rennes edificio costituito da un telaio d'acciaio e elementi modulari industriali ma quello che io personalmente adoro è il progetto per l'ampliamento del macro Museo d'Arte Contemporanea a Roma la DEC ha infatti ricucito l'edificio con l'aiuto di un parallelepipedo in vetro e naturalmente ha inserito una delle sue emblematiche strutture organiche rosse all'interno del museo stesso la DEC ha anche firmato alcuni oggetti di design divenuti ormai leggenda come per esempio la famosissima Phantom Chair per Frau Katsuyo Sejima cofondatrice dello studio Sana assieme a Ryue Nishizawa la Sejima è la regina indiscussa del minimalismo giapponese superfici pulitissime, luce e concezione estremamente funzionale dello spazio sono le peculiarità che contraddistinguono le sue architetture la forma dei suoi progetti si autogenera sul proprio diagramma funzionale dando vita a figure geometriche mai viste prima che però esplodono di quella essenzialità che solo la geometria classica possiede tra i suoi progetti più iconici va sicuramente citato il museo d'arte contemporanea del ventunesimo secolo di Kanazawa struttura circolare in cui il vetro la fa da padrone assoluto o il Rolex Learning Center, la biblioteca polifunzionale del Politecnico di Lausanna progetto al quale sono particolarmente affezionata perché è uno dei miei riferimenti fissi quando si tratta di progettazione la Segima è una figura femminile fondamentale nell'architettura perché non solo è stata la seconda donna a vincere il premio Pritzker nel 2010 ma soprattutto perché nello stesso anno è stata la prima direttrice donna in assoluto della Biennale di Architettura di Venezia a mio parere tra l'altro una delle migliori biennali d'architettura degli ultimi anni se non forse la migliore in assoluto Neri Oxman Neri Oxman, oltre ad essere una donna di rara bellezza prova vivente che è una donna intellettuale può essere anche bellissima e molto curata nell'aspetto senza che questo influenzi minimamente il suo cervello è un architetto israeliano che vive e lavora in America docente di media, arti e scienze all'MIT è una pioniera della bioarchitettura la Oxman sfrutta infatti le nuove tecnologie come la progettazione procedurale e computazionale la stampa 3D e la manipolazione di elementi naturali per creare dei progetti innovativi e in continua evoluzione il design è sicuramente la sua vocazione di fatti firma Gemini una chaise longue che sfrutta la stampa 3D policromatica per creare una seduta cocoon che può sia avvolgere comodamente ma anche tenere il corpo umano in tensione celebrandone così la versatilità ma la ricerca della Oxman si concentra anche sui materiali e sulle infinite possibilità che le nuove tecnologie offrono dall'architettura in media scala fino all'industrial design e al fashion design campo nel quale spinge i suoi studenti a sperimentare senza alcuna limitazione usando progetti di tessuti biocompatibili che crescono, si adattano e sono addirittura in grado di curare il corpo umano il carisma di questa donna unito alle sue idee geniali e alla brillante intraprendenza ne fa anche un'oratrice magnetica e infatti a questo proposito vi lascio il link che porta al suo TED Talk 17 minuti di pura luce per la mente creativa in cui la Oxman vi racconterà dell'interazione tra tecnologia e biologia quanto inesplorato tra la progettazione computazionale al computer pura ingegneria e la manifattura tradizionale elementi che insieme possono creare un design fatto su misura per il corpo umano ebbene amici, nonostante questi esempi di donne a dir poco in gamba dovete sapere che da un sondaggio di The Women in Architecture è emerso che nell'anno 2016 una donna architetto su 5 non consiglierebbe ad un'altra donna una carriera nel campo architettonico questo perché il 40% delle donne architetto sostiene di essere retribuito meno dei colleghi uomini in più il 72% delle donne architetto viene discriminato, molestato o preso in giro almeno una volta nella sua carriera e in più il 75% di loro ritiene di non poter avere figli perché non tutelate in caso di maternità in più mi è capitato personalmente di vedere cantieri in cui l'architetto uomo veniva appellato col proprio titolo e gli veniva dato rigorosamente del lei mentre l'architetto donna veniva chiamata semplicemente signora e spesso le veniva dato del tu ora questa può sembrare una scemenza probabilmente lo è ma è la prova tangibile di una differenza ancora molto troppo presente ebbene amici con la speranza che questi numeri cambino nel minor lasso di tempo possibile io vi voglio dire che ci sono molte donne idiote ma ci sono anche molte donne brillanti proprio come esistono uomini idioti e altrettanti uomini brillanti e va sempre evidenziata la differenza ma non la differenza fra uomo e donna bensì la differenza tra idiota e brillante se questo video vi è piaciuto cliccate sul pollicino in su perché più ci cliccate più io ho il mio entusiasmo e più contenuti continuo a creare intanto io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao